Allora, eccoci pronti per questa puntata di Studio Tele4 che vede ospite il professore Andrea Mendola, responsabile della produzione del Conservatorio Tartini. Grazie per essere tornato. Grazie a lei. Era un po' che non ci vedevamo, era un po' per dire la verità che io non sentivo qualcuno del Tartini per tutta una serie di ragioni, eccetera. Ci sono da presentare tutta una serie di appuntamenti che compongono, come si dice, la seconda parte o il secondo libretto della stagione invernale dei concerti, però prima, proprio, ripeto, per rientrare in carreggiata, siccome so che i Tartini, ringraziando i Dio, come tante altre realtà della cultura della nostra città, non stanno mai tranquilli, stanno mai fermi e so anche che c'è tutta una serie di rapporti molto importanti che il Conservatorio va con altri conservatori internazionali e che pongono anche il Tartini in una posizione privilegiata per quanto riguarda la geografia dei conservatori italiani, ma non solo. Volevo vedere un pochettino, detta così e brutta, che cosa bolle in pentola. Molto volentieri. E anche l'orario, più o meno. Molto volentieri. Vede, noi siamo qui a pubblicizzare, diciamo, a annunciare questo secondo libretto, ne seguirà un terzo, che ci porterà fino alla pausa estiva, diciamo, e quindi per un totale circa di più di 40 concerti nell'arco di questo anno accademico e direi che, come dire, una corposa rassegna che, ricordo, è, questo è importante dirlo, è fruibile per la cittadinanza in modo gratuito, sempre. Ovviamente, come lei giustamente diceva, i Tartini, diciamo, questa è come una vetrina per la città, ma ci sono ben altri progetti, no? Ad esempio, abbiamo delle consolidate, come dire, rapporti regionali, come ovvio che sia. Cito, per esempio, la partecipazione dei nostri studenti al Festival Mittelfest o il Festival Le Giornate, Le Cine alla Muta e il Pordinone, tanto per citarne due. Ma quello che mi piacerebbe, visto che lei mi dà questa possibilità, citare è come in questi ultimi anni il conservatorio abbia notevolmente incrementato quelle che sono le proprie relazioni internazionali, soprattutto con le accademie, in questo caso si dice, di area balcanica, ma non necessariamente quelle più vicine a noi come Zagabria o Ljubljana, ma ormai le nostre relazioni spaziano proprio da Kiev a Tirana, passando per Minsk, Budapest e via via Belgrado, così. L'esempio più probante di questi accordi, di queste relazioni, è la creazione di questa orchestra CEMAN, non so se lei si può parlare, sì che si è esibita a Trieste in settembre, che è proprio una, a parte che è un'idea proprio nostra del conservatorio di Trieste, è un'orchestra che è formata da studenti provenienti da 11 accademie diverse proprio di questi paesi qua. Il tutto sotto il cappello dell'Ince, che è un intergovernativo, come lei ben sa, che si interessa nella, come dire, la divulgazione di eventi culturali proprio per questi paesi che ancora non sono all'interno dell'Unione Europea. Poi abbiamo firmato di recenti accordi bilaterali con l'Università di Toronto, che stanno andando molto bene, questa è una cosa nuova, diciamo, stanno molto bene, sia per progetti di produzione congiunti, ma anche per residenze Erasmus dei nostri, in questo momento abbiamo il nostro studente che appunto è partito per Toronto, sarà lì per un semestre. E ovviamente non si può dimenticare anche gli ottimi rapporti che abbiamo con le accademie, diciamo, più culturalmente vicine a noi, storicamente che sono quelle austriache, diciamo, no? Un esempio di questo è proprio la prossima tournée della nostra orchestra sinfonica, in maggio, a Grazio, dove ci sarà un grande evento che la nostra orchestra si esibirà insieme, separatamente, poi insieme all'orchestra del Conservatorio di Grazio e all'Accademia di Ljubljana. Quindi, diciamo, ecco, questo volo d'uccello è un po' quello che noi stiamo facendo. E questo è, secondo me, molto bello che avvenga anche attraverso il mondo della cultura, ma è come se Triestere recuperasse quel ruolo baricentrico che aveva, adesso qualcuno potrebbe anche ai tempi della defonta, ma comunque che significava qualche cosa, proprio perché Trieste era anche crogiuolo di razze, di cultura, eccetera, e mi pare di capire che a livello culturale in questo momento lo sta in qualche modo recuperando. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Posso fargli un esempio banalissimo, però esplicativo. La mia classe di viola, nella mia classe di viola, ho tre studenti italiani e sette, otto che provengono da queste aree qui. Ma è una cosa ciclica, potrebbe essere il contrario, però io questo la vedo come una ricchezza, una possibilità, anche perché chi se non noi siamo di riferimento come porta dell'est, no? Le faccio questa domanda. Prendo spunto rapidamente da un'altra cosa, nel senso che se noi osserviamo, se noi assistiamo ad una serie televisiva su Netflix, oramai vediamo che c'è una sorta di, come posso dire, c'è un livello molto alto, no? C'è un'omologazione verso l'alto di parecchi prodotti. Questo da un lato significa che in alcune realtà ormai si è padroni del mezzo, diciamo così, però è anche vero che questa omologazione verso l'alto rischia un pochettino di abbattere le caratteristiche specifiche di determinati paesi. Come si evita questo nel mondo della musica? Perché immagino che un conservatorio italiano come il Tartini sia richiesto perché c'è qualche cosa di italiano che lo caratterizza e immagino anche che un conservatorio austriaco, piuttosto che un'accademia austriaca, piuttosto che un conservatorio russo o statunitense, abbia quelle sue caratteristiche che lo rendono più o meno interessante, più o meno appetibile. Beh, noi da questo punto capisco la domanda, ma da questo punto di vista qui abbiamo una fortuna che abbiamo la musica, cioè nel senso che voglio dire l'interpretazione musicale di un pezzo italiano può essere diversa fatta da noi rispetto così. Quindi diciamo che per esempio è molto interessante vedere i due aspetti, cioè io è un dare e un ricevere, come le dicevo per esempio di questi studenti stranieri che sono da noi, a volte è difficile, ma è il nostro compito, insegnar loro come eseguire delle musiche italiane, ma a volte potremmo anche avere un ritorno da loro su come si interpreta qualcosa che hanno dentro, in modo un po' consapevole. Sì, credo sia, credo sia un momento particolarmente... Sì, quindi diciamo che non ci può essere una connotazione italiana di tutto un conservatorio, insomma è la connotazione di chi c'è dentro, insomma in qualche modo è trovare una sintesi di questi aspetti. In questi, sono 11 gli appuntamenti diciamo della seconda parte del libretto, della seconda parte della stagione. C'è qualche cosa di particolarmente curioso a livello che so, può essere magari di repertorio, di autori, di compagini anche? Direi di sì, guardi, io venendo qua ho pensato di citarne due in particolare, il primo è proprio quello di mercoledì prossimo, che si terrà alla chiesa luterana e non in sede da noi, per quale motivo? Perché questo concerto sarà l'occasione per l'inaugurazione di un organo Benedetto Tronchi, leggo qui, del 1793, che è stato donato al conservatorio Tartini dal monsignor Don Umberto Pineschi, che però è un organista, è un didatta, è un musicologo di fama mondiale. Questo organo ha una storia un po' particolare, nel senso che quando fu costruito in quella data lì, nel 1793, fu acquistato da una nobile famiglia fiorentina e la sua ubicazione fu una cappella di una vita privata. Poi, come dire, negli anni la famiglia, come dire, si è un po' disgregata e poi il tutto andò a un'asta, questo intorno a fine anni 90 e il maestro Pineschi acquistò questo organo e adesso lui, il triestino di nascita, anche se in realtà ha sempre lavorato in centro d'Italia, ha deciso di fare questa donazione da noi e quindi ecco perché è bellissima questa cosa. Ecco perché l'organo è del proprietario del conservatorio, ma sarà ubicato... Ah, sarà ubicato... Quindi sarà un bellissimo concerto di musica antica, con le collaborazioni di classe di canto, di flauto dolce, di clavicembro, di organo e anche è bello la partecipazione sia di studenti che di docenti insieme. Quindi questo sicuramente è un concerto molto particolare, che è anche una cosa per la città. Poi direi, senz'altro, andrei, aspetti un secondo, eccolo qua, senz'altro citerei il concerto del 19... no, mi scusi, il concerto del 26 febbraio, che avremmo la nostra docente Luisa Sello Flauto, accompagnata, posso fare così come fanno i ragazzi, accompagnata per modo di dire, del maestro Bruno Canino. Il maestro Bruno Canino è uno dei più grandi cameristi dei nostri tempi. Io ringrazio la nostra collega Luisa Sello che ci ha dato questa possibilità di averlo qui da noi. Pensi che l'entusiasmo è tale che organizzeremo prima di questo concerto un incontro con i ragazzi di pianoforte, come uno speech, così, dove i ragazzi potranno chiedere, fare domande di curiosità sulla vita. Che credo, adesso non vorrei sbagliare, ma mi sembra che sia anche un compositore anche di musiche da teatro, perché è un nome che io ho sentito molto spesso. No, direi di no, che sappia io no, però non vorrei... No, no, lui è proprio, è anche avanti con l'età, quindi per noi proprio è un evento, quindi questa è una cosa. Poi ci saranno una serie di altri concerti, ovviamente, sono 12 mi pare in tutto, che alterneranno docenti e studenti, e gli studenti, mi piace sottolineare, si esibiranno anche informazioni un po' particolari, ad esempio avremo un quartetto di sassofoni, ma suonerà musica classica, no? Poi avremo un sestetto di arpe, un sestetto di arpe? Molto particolare questo, sì, poi ci sarà un quartetto con pianoforte e trio d'archi, anche questo è molto strano, e per ultimo metterei anche un recital di viola, che non è una cosa così usuale, diciamo. Sì, bisogna sempre pensarci, no, quando dice viola qual è il violino più grande. Sì, esattamente, quindi diciamo che poi avremo i nostri docenti, ieri abbiamo avuto il primo concerto, che era un duo, Scandilabia Guita Duo, che erano i nostri colleghi ospiti dal Conservatorio di Copenaghen, è andato molto bene, è stato medico, quindi direi una stagione, un libretto che mi auguro piacerà, insomma. Professore, quando esiste, immagino, che anche per quanto riguarda la vita di un conservatorio, esistono delle, chiamiamo delle tendenze, sarebbe moda forse è più corretto, ma è brutto come termine. Non so, ci sono degli strumenti che seguono una sorta di andamento, che sono più popolari in un determinato periodo e lo sono meno in altri? E se sì, adesso qual è? Certamente, certamente, abbiamo avuto in questo momento, per esempio, forse non si può definire strumento, ma la classe di musica e nuove tecnologie è molto richiesta, come tutto l'aspetto, tutto il dipartimento jazz, dalla chitarra, al sassofono, così. Diciamo che l'inossidabile pianoforte è l'inossidabile flauto, mi sentirei anche di dire, no? E quindi diciamo che questi strumenti qui, in generale tutti un po' gli strumenti armonici, cioè quelli che si accompagnano da soli, chitarra, pianoforte, così, rimangono sempre... Forse abbiamo in questo momento qualche problema con gli strumenti ad arco, ma questo non perché sia una moda, ma perché è un po' cambiata l'utenza del conservatorio, nel senso che ai miei tempi si viveva di pane e violino, come dire, no? Mentre oggi, giustamente, l'utenza è un po' cambiata, perché i ragazzi fanno liceo, università e quindi il peso è notevole, del studio, delle cose, e sono, devo dire, degli strumenti molto difficili da... Comunque io una volta sono stato, ups, per una conferenza stampa probabilmente, ed è, io devo dire la verità, probabilmente perché io ho un ottimo ricordo della mia esperienza scolastica, ma è bellissimo vedere la gente che arriva, il conservatorio, questi ragazzi che c'è, vedi che c'è qualcosa di... c'è un atteggiamento diverso nei confronti del luogo, eccetera, è molto, è molto bello. Cioè l'intende dire il ragazzo che fa il conservatorio è qualcosa in più, dice lei? Qualcosa di diverso, ecco, non direi inizialmente di più, eccetera, ma c'è un atteggiamento del ragazzo nei confronti del luogo dove studia che è diverso rispetto... Sì, 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 ho sempre avuto, come dire, un grande rispetto quando si valga il portone nel conservatorio, come qualcosa di importante, sì, è vero, questo senz'altro è vero. Si nota, tra l'altro volevo chiederle adesso, qualche settimana fa c'è stato un po' di... si è discusso molto, per esempio, perché sotto certi aspetti non si può mai stare tranquilli, di questa esecuzione della Radeschi Marche durante il concerto di Capodanno, che se non avessero detto prima che sarebbe stata un'esecuzione diversa, penso che nessuno ci sarebbe accorto della cosa. Alcuni hanno anche detto, tutta pubblicità, io non so se i Wiener Philharmoniker avessero bisogno di questo tipo di pubblicità, eccetera, però, insomma, certamente questo, al di là poi di tutte quante le discussioni, ci dice parecchio anche su come noi ascoltiamo la musica. Noi molto probabilmente parecchi brani storici li sentiamo in alcune, come si dice, in alcune variazioni, in alcuni arrangiamenti, non so se è correttissimo, che magari sono... Versioni. In alcune versioni che non sono proprio quelle originali. Magno sia molto più comune di quanto si possa sospettare, no? Mi chiede cosa ne penso io. Sì, non so ne... Allora, io penso che sia un po' più ampio il discorso qui, la polemica, se possiamo definirla così intorno a questo fatto, secondo me è, secondo la mia interpretazione, un'altra, è che forse, come dire, bisognerebbe, c'è una volontà di dare una svecchiata a, come dire, a questi concerti così tradizionali, in qualche modo, dopo gli strumentisti, si rimane un po' ostaggi di questa cosa qui. Allora, qui è sempre da capire, no? Com'è il discorso, quanto sia importante mantenere delle tradizioni o quanto sia importante, a un certo punto, anche, come dire, non far finta che gli anni siano passati, che ci sia anche un'utenza un po' diversa. Quindi qui io entrerei su una sfera personale, io personalmente sono dell'idea che forse bisognerebbe dare una svecchata. Cambiare, cambiare un po'. Laddove, invece, si parla molto, si è parlato anche di voi la scorsa, qualche giorno fa, adesso io non voglio tirarla a cemento, come si dice, perché non è corretto, ma, insomma, si parla molto della necessità per Trieste di luoghi dove esibirsi, no? Il discorso è Saratripkovic, nel senso, molti dicono chiudere, abbattere una sala di teatro è poco difforme, poco distante da un crimine, eccetera. Altri, e sotto certi aspetti mi ci metto anch'io, fra questi altri sostengono attenzione, perché le sale da concerto, le sale di spettacolo, eccetera, poi bisogna riempirle. La domanda che le faccio è questa, per la vostra esperienza e per la vostra necessità, come siamo a sale a Trieste? Perché è facile poi che saltino sui comitati che magari non hanno idea di cosa significa, e dicono, ah, ma c'è bisogno di questo, c'è bisogno di quell'altro. Mi permette di rispondere sulla domanda specifica del Trieste. Allora io penso che è giustissimo quello che lei ha detto, le sale va riempite e non è facile oggi. Però è anche vero che bisogna vedere, abbattendo un teatro, cosa si fa, perché se poi si fa un parcheggio, allora magari si può discutere. Oppure si può fare anche il parcheggio, a patto che però, per esempio, vengano pensate altre location. Ad esempio, io sono fautore della conversione industriale, ad esempio, per esempio, questa operazione è stata fatta nel magazzino 26, e cose del genere, secondo me è una strada giusta, tornando anche al discorso di svecchiare un po' e tutto, è una strada giusta per reperire anche delle location che non siano così tradizionali. Quindi direi che le sale a Trieste non mancano. Forse manca qualcosa che abbia un appeal nuovo. Io ogni volta che mi affaccio sulla nostra terrazza, la parte che dà, diciamo, verso via Svevo, eccetera, io ogni volta che vedo il gasometro, penso al fatto che fondamentalmente noi abbiamo una piccola Royal Albert Hall e non riusciamo a immaginarla come tale, perché quello è un luogo che, secondo me, se lo si riuscisse a convertire, sarebbe straordinario. Io dico la verità, non l'ho mai visto, io non sono di Trieste, sono qui da vent'anni, ormai che lavoro in conservatorio. E poi dopo le faccio vedere. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe volentieri. Però, voglio dire, anche perché poi costruire o convertire una sala non è cosa da poco. No, no, no. Poi bisogna fare delle sale intelligenti, perché oggi fare una sala magari da 250 posti può essere controproducente. È un po' come il discorso degli stadi, di calcio, che da 80.000 posti non servono più, bisogna fare 35.000 ma confortevoli. E anche con, come dire, attenzioni acustiche in questo caso. Sì, credo che sia un discorso che non si deve prendere alla leggera. No, direi che anche non è facile per noi, possiamo solo dare delle indicazioni, noi musicisti, ma più di qua è un discorso politico. C'è una frase che io ripeto spesso ed è tratta da una canzone di Ornella Vanoni che piaceva a mio papà, per questo la conosco, insomma, e dice tu puoi fare finta di essere cieco, ma prova a fare il sordo quando hai intorno una musica. A dire, se interpreto in un certo punto, può essere un'interpretazione mia, che non c'è niente di, io dico addirittura, non c'è niente di peggio di una musica anche per aggredirti in qualche modo, perché magari uno sta tranquillo, pensa alle cose su, eccetera, poi basta che in sottofondo senta una musica che gli ricorda qualche cosa, eccetera, è un colpo, delle volte è un colpo bicidiale, ma perché per esempio la musica ha questo potere, se vogliamo, più delle arti visive di per sé, non credo che un quadro ancorché meraviglioso, eccetera, abbia questa potenza, per certi aspetti, distruttiva. Io penso che questa potenza della musica l'abbia anche l'olfatto, no? A volte certi odori ci riportano a delle situazioni del passato, però al di là di questo, io devo dire, da musicista devo dire questo, noi facciamo questo lavoro, ed è un lavoro, però a volte ci dimentichiamo che è un privilegio, nel senso fare questo lavoro, nel senso che, provo a mettermi nei panni di un ascoltatore, di un non musicista, e voglio dire, io mi rendo ancora conto che a volte questo è un privilegio, in certi momenti, quando sul palco si suona così, si hanno delle emozioni incredibili, indescrivibili, che forse riportano a delle cose proprie, una sensibilità propria, dei ricordi, e secondo me, se queste emozioni riusciamo a viverle noi, le trasmettiamo, quindi probabilmente ognuno di noi sente nell'esecutore, chi gli piace, il tipo di musica, questa vibrazione che è la stessa che probabilmente dovrebbe avere l'esecutore. Quindi si entra in sintonia, penso di sì. Penso di sì. Adoro invece c'è un'altra cosa che a me capita di recenti, io discutevo spessissimo con un mio amico che è un stimatore di Mahler che a me, devo dire la verità, trovo piuttosto ostico, eccetto la quinta, perché secondo me il lavoro che in quel caso magari ha fatto Lucchino Visconti che è paragonabile, se vogliamo, anche al lavoro di Kubrick con Barry Lyndon su, credo sia Endel, se non mi sbaglio, sulla Sarabanda di Endel, eccetera, prendi un pezzo, lo trasformi in qualche cosa di completamente diverso e di utilissimo per certi aspetti. perché in questo caso è come dire la sovrapposizione e due emozioni, l'immagine e la musica, certo, come no, certamente. Guardi che adesso lei ha toccato un tasto veramente, diciamo, moderno. Adesso, come le dicevo, è sempre più difficile riempire le sale da concerti con un concerto tradizionale. Adesso per esempio vanno molto di moda, c'è questa ricerca di abbinare alla musica anche delle immagini, no? Per esempio, qui a Trieste proprio c'è una, ci sono delle persone che per esempio utilizzano questa multivisione, è una cosa molto bella e a me è capitato di fare delle esecuzioni con queste proiezioni, queste multivisioni e io non le vedevo perché suonavo, ma devo dire che poi visto il filmato la cosa era molto emozionante. Certo, è una distrazione, se vogliamo dire, però se uno sa che va a vedere quello e non è una cosa speculativa, diciamo, e allora se pensate insieme diventa veramente molto forte come messaggio. Tutto ciò per dire che effettivamente siamo veramente inermi quando ci ha ragione la Vanoni perché quella è una roba che scrisse proprio lei. Professore, grazie per essere stato con noi, noi ci vediamo quando presenterete l'ultima tranche di concerti, quindi quelli diciamo più primaverili. Vi ricordo che oggi è giovedì, sì, per cui alle 21 c'è l'appuntamento con Ring dove si parla prevalentemente di Ferriera. Grazie ancora al professor Andrea Mendola, responsabile della produzione del tartino. Grazie.